Sem... Sem... Sembra la Via Lattea. Semiramide, Semiramide, tu per me sei la Semiramide di Rossini. Mannaggia, basta, la gelosia non la sofferta. Semiramide, Semiramide. Non mi chiamare più Semiramide, chiamami Anna. Come mi chiama Lucio? Chi è sto Lucio? Ma come chi è? Lucio Battisti che fa... Anna! Ma che... Semiramide! Lorsignori, da dove vengono? Da gara! Voglio dire, lorsignori, qui in questa caserma, cosa ci stanno a fare? Chi vi mangia? Che voi siete di leva militare. Bravi, bravi, siete entrati così, come se foste in campagna. Attenzione! Che è successo? Come che c'è? Il sergente rompiglione al rapporto dal colonnello. La parola è baffo! Il sergente rompiglione al rapporto dal colonnello. Uccelli! E questo altro sono io. Comandi! Prendili in cura! E mandali dal barbiere!